Vogliamo parlare di questa giovane promessa del Calcio 5 che è stato convocato in nazionale, si chiama Claudio Odierna, ha appena 15 anni, lo vedrete tra poco in una fotografia, ed è in forza alla società stranese, è l'unico tra i 15 campani che erano stati chiamati all'appello ad approdare al programma formativo a Tirrenia a partire dal 7 settembre prossimo, lo stage formativo che rientra nel programma di sviluppo di formazione tecnica ed educativa FITSAL sotto la guida dei tecnici federali, riservato ai calciatori under 16 appartenenti alla società di Calcio 5. Da sabato 7 settembre la giovane promessa di Sarno sarà dunque a Tirrenia insieme a tanti suoi coetani per perfezionarsi e imparare e chissà diventare un campione. Claudio che ha ereditato dal suo papà Nello Odierna, giornalista da sempre vicino al calcio Napoli, la passione per il football, alla stoffa per diventare un campione. Passione, determinazione, voglia di fare, di sacrificarsi sono gli elementi giusti per raggiungere importanti traguardi. Intanto, in bocco al lupo, al piccolo campione in erba.